Salve a tutti amici di Spazia Tech, sono Fulvio e non sono qui oggi con la recensione di uno smartphone, ma sono qui oggi per farvi importanti annunci riguardanti il nostro sito, ma soprattutto voi, cioè la nostra community. Quindi che dire, scopriamo queste importanti novità, come sempre, dopo la nostra sigla. Beh allora, quali sono questi annunci? Allora, partiamo col dirvi che noi su Telegram siamo molto attivi. Quindi abbiamo già il nostro gruppo aperto, dove potrete discutere di tecnologia con altri utenti e con noi direttamente. Abbiamo anche altri canali, come il nostro mercatino, dove potete vendere e, diciamo, fa girare i vostri smartphone per provare altri prodotti. Ma oggi abbiamo un annuncio molto importante da farvi. Abbiamo aperto anche un altro nuovo canale Telegram. Telegram dedicato alle offerte, ma non è un classico canale di offerte dove voi dovete solo guardare e aspettare di trovare l'offerta giusta che fa per voi quel giorno. Ma è un canale Telegram un po' particolare, con una concezione un po' più nuova. È un canale Telegram aperto, dove potrete accedere tutti e lascerò il link qui in descrizione, sia al nostro gruppo aperto, sia al mercatino, sia a questo nuovo gruppo di offerte. Come funziona questo gruppo di offerte? Una volta entrati potrete tranquillamente copiare un link di Amazon su un'offerta di vostro gradimento che, secondo voi, potrebbe aiutare anche altri utenti a cercare l'offerta giusta in quel giorno. Ebbene, quindi è un gruppo di condivisione di offerte, dove quindi potete condividere le vostre offerte e quindi aspettare sia le offerte di altri utenti, sia condividere quella che per voi è l'offerta del giorno, più soddisfacente e più, diciamo, l'opportunità di fare l'affare della giornata. Quindi, che dire, sono molto felice di comunicarvi che la nostra community si sta sempre più ampliando, quindi vi lascerò qui sotto in descrizione. Mi raccomando, entrate anche su Grupo Aperto. Siamo molto aperti e siamo molto contenti di discutere con voi di tutte le news di tecnologia. Quindi, che dire, fatemi sapere qui sotto se vi aggiungerete al nostro canale Telegram. Io sono Fulio per Spazio Tech, ci vediamo al prossimo video e chissà se sarà un video di un altro annuncio o di una recensione di uno smartphone.